Impiegata della prefettura arrestata per concussione nei guai, una donna di 52 anni accusata di aver chiesto soldi per far sparire una pratica. Pensionato muore nell'auto dopo un malore e tragedia nel pomeriggio di oggi a Balbano a perdere la vita un uomo di 73 anni. Fine di un'epoca demolito l'ex Uba Uba dopo 20 anni di abbandono alla struttura ormai fatiscente è stata demolita in pochi giorni dalle ruspe, vi sorgerà un discount. Lo sport e il calcio una domenica molto amara, brutta giornata per le nostre di serie D, Biareggio e Realforte si fanno recuperare sul pareggio, il Ghibiborgo travolto a Sanremo. L'atletica, la maratona parla marocchino, Tariq Marnoui vince l'ottava edizione della Luca Marathon. Oltre 1.200 gli atleti al via della gara competitiva, 2.200 di quella non competitiva. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque in primo piano la cronaca, l'arresto da parte dei carabinieri di una donna di 52 anni impiegata nella prefettura di Luca con l'accusa di concussione. Tutti i dettagli nel servizio curato da Egidio Conca. Arresto sciocchi in prefettura a Luca. Un'impiegata di 52 anni, Graziella Sironi, è finita ai domiciliari con l'accusa di concussione. L'indagine era partita pochi giorni fa quando una donna residente a Massarosa si era presentata ai carabinieri di Biareggio. La donna aveva raccontato che un'impiegata della prefettura le aveva richiesto la consegna di 500 euro in contanti per far sparire una pratica che la riguardava in merito a un presunto possesso di droga. I militari hanno quindi atteso che l'impiegata fissasse un incontro con la vittima per la consegna dei soldi. All'appuntamento, fissato in un bar subito fuori la prefettura, la vittima ha consegnato alla Sironi una busta contenente 280 euro. L'impiegata era convinta di aver messo a segno il colpo, ma fuori dal locale per lei è arrivata la doccia gelata. Ad attenderla c'erano i carabinieri che l'hanno condotta in caserma a Biareggio. Tra l'altro i militari hanno accertato che non c'era niente in sospeso in prefettura riguardante la donna di Massarosa, cioè l'impiegata aveva millantato di poter far sparire una pratica che in realtà non esisteva. L'arresto dell'impiegata è stato convalidato dal Tribunale di Lucca. Ancora la cronaca, serata a dir poco movimentata ieri sera a Mologno a causa di una lite tra alcuni giovani che si è svolta a chiusura della tradizionale mondinata. Lite che sarebbe scoppiata secondo le prime ricostruzioni tra alcuni ambulanti che avevano partecipato alla festa nell'ambito del piccolo mercato allestito in piazza della stazione e alcuni giovani. Alla base della lite futili motivi, sembra addirittura per l'utilizzo di alcune sedie di plastica. La lite è avvenuta a manifestazione ormai conclusa ma ha visto coinvolte diverse persone. Alla fine sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Cinque le persone rimaste ferite, ciascuna con cinque giorni di prognosi. E adesso parliamo di una tragedia avvenuta nel pomeriggio a Balbano. Un uomo di 73 anni è morto dopo un malore alla guida della propria auto. È stato visto accasciarsi sul volante prima di urtare con l'auto contro una colonnina del gas in via delle corti a Balbano. È morto così, forse colpito da un attacco cardiaco, Adolfo Di Riccio, pensionato di 73 anni, residente nella zona. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia municipale di Lucca, l'uomo, presidente di un circolo ricreativo annozzano, stava tornando a casa quando ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura. L'auto sulla quale stava viaggiando si è schiantata contro il muretto di un'abitazione, abbattendo anche le colonnine del gas. È stata l'agente del posto a dare l'allarme. In pochi minuti è giunta un'ambulanza, mentre il 118 aveva già allertato all'esito soccorso Pegaso, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, fermando la fuga di gas. Sarebbe stata confermata la presenza di idrocarburi, ben oltre i limiti previsti dalla legge, sia nel palper, gli scarti industriali delle cartiere, sia nei fanghi riversati in terreni di aziende agricole poi adibite a coltivazioni di grano. Questi, secondo quanto si apprende, i primi risultati delle analisi chieste all'ARPAT e a due laboratori delle province di Lucca e Venezia, dalla Procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso 13 settembre portò all'esecuzione di sei misure di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di altrettanti imprenditori accusati di aver smaltito in modo illegale fin dal 2013 oltre 80.000 tonnellate di rifiuti. Da alcuni giorni è lampeggiante il semaforo all'incrocio tra lo Stradone e Via Nuova a Segromegno, nel comune di Capannori. Si tratta di un incrocio molto transitato e pericoloso anche perché posto tra due strade percorsi a volte ad alta velocità dagli automobilisti. In questi giorni si sono già verificati tre incidenti, fortunatamente non gravi i residenti, però chiedono che il semaforo venga rimesso in funzione al più presto. E adesso parliamo di un immobile storico di Lucca, l'ex Uba Uba, dopo tanti anni di abbandono, in questi giorni è stato demolito, a breve sorgerà una nuova struttura. L'Uba Uba non c'è più. Dopo vent'anni di abbandono, la struttura di San Concordio, ormai infatiscente, è stata demolita in pochi giorni dalle ruspe. I mezzi adesso stanno completando il lavoro di spianamento e ripulitura dell'area, vasta oltre 7.000 metri quadrati. Al termine dei lavori e dopo una variante adottata dal comune, dovrebbe esserci il via libera alla realizzazione di un negozio della catena di discount Eurospin. Il negozio dovrebbe sorgere su un'area di circa 1.500 metri quadrati, quindi con una metratura inferiore rispetto a quella della grande distribuzione. Inoltre l'edificio non sarà immediatamente fronte strada come era invece l'ex Uba Uba. Davanti alla struttura sarà infatti realizzato un parcheggio da 150 posti. Il resto dell'area sarà occupata da un magazzino. Se tutto va per il verso giusto, l'apertura del discount dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno. Per quel tratto di Via L'Europa si tratterà in ogni caso di un deciso passo in avanti verso la riqualificazione. Sarà il sindaco di Vagli, Mario Puglia, l'ospite della prossima puntata di Diretta Sindaco in onda su Noi TV questo mercoledì. Come sempre anche voi potrete intervenire con domande e commenti via sms e whatsapp. Lucca ospiterà la terza conferenza dell'AICI, l'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane. Tanti nomi importanti previsti nel capoluogo dal 10 al 12 novembre. Si terrà dal 10 al 12 novembre prossimi presso l'Ex-Real Collegio la terza conferenza nazionale dell'AICI, l'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane. L'evento, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Attività Culturali, la Regione Toscana e il Comune di Lucca, è stato presentato presso la sede della Fondazione Banca del Monte, dal Presidente Orlando Landucci, il Sindaco Alessandro Tambellini e Valdo Spini, Presidente dell'AICI e promotore della manifestazione. Direi che soprattutto la sfida per istituti e fondazioni come le nostre, la sfida è duplice. Da un lato la rete, il web, è chiaro che mentre prima magari una conferenza anche di poche persone comunque influenzava l'opinione pubblica, ora riesci ad avere un riverbero più ampio e la rete te lo può dare, oppure la tua attività non viene percepita. Il secondo aspetto è l'Europa e la internazionalizzazione e su questo credo che si possa fare effettivamente un lavoro comune fra le fondazioni. Oltre a quello un po' di difenderci perché quando io ho cominciato a fare il Presidente la tendenza dei Ministeri era diminuire ma radicalmente i contributi, addirittura a meno della metà. Ora devo dire che le cose si sono ristabilite e quindi diciamo il pericolo di una compromissione di questo patrimonio storico, archivistico e poi morale diciamo che rappresenta le nostre fondazioni sembrerebbe al momento se non altro tamponato. Si è conclusa con l'assegnazione dei riconoscimenti a Palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli l'edizione numero zero del premio Pontremoli Giovani per l'Agricoltura di Presidio, ideato dalla Cia Toscana Nord proprio per premiare l'impegno dei giovani nell'agricoltura di Presidio. Riconoscimenti a quattro aziende della provincia di Lucca, la Simone Battistini di Stazzema, ad Ambra e Deborah Giovannetti di Barga, a Danilo Fontanini di Piazza del Serchio e Antonio Bongi di Ghivizzano. E a proposito di imprenditori, questa mattina a Lucca l'inaugurazione di una mostra intitolata Capitani Coraggiosi. Vediamo perché. Fa tappa anche a Lucca la mostra Capitani Coraggiosi, realizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e dedicata a 18 grandi protagonisti del Made in Italy nel mondo. Uomini e donne che dall'inizio del XX secolo ad oggi hanno saputo lasciare il segno, affiancando l'impegno imprenditoriale a una forte attenzione al sociale. Da Olivetti a Pirelli, passando per Treccani, Amarelli, Barilla e molti altri nomi illustri, la mostra racconta attraverso pannelli e prodotti industriali significativi un pezzo di storia imprenditoriale dell'Italia. È vero, non è solo profitto e mercato, è anche profitto e mercato, ma per fare industria oggi come allora, come al tempo dei nostri imprenditori qua esposti, è necessario necessariamente coniugare la responsabilità sociale con una responsabilità di impresa. Abbiamo deciso di portare a Lucca questa mostra durante il periodo di Lucca Comics perché mi piaceva far vedere un altro modo di essere eroi, far capire che chi ha grandi responsabilità deve avere anche una responsabilità non solo verso se stesso e verso le persone che lavorano con sé, ma anche verso la comunità che rappresenta. C'è ancora la possibilità di fare impresa in questo modo, in questo momento storico? Sì, assolutamente, ma non solo da un punto di vista etico, ma voglio essere anche molto pragmatico anche da un punto di vista di marketing. Fare impresa in un modo riconosciuto dalle persone, apprezzato dalle persone è probabilmente uno dei pochi modi che abbiamo per distinguersi da chi lavora con costi completamente diversi dai nostri. Due mesi fa il terremoto che sconvolse il centro Italia. Ieri una spedizione partita da Lucca fino alle zone terremotate per portare aiuto anche agli animali. Da Lucca ad Amatrice per portare centinaia di chili di cibo per cani, gatti e animali da reddito alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. È il viaggio realizzato dai volontari lucchesi di Ampana. Prima tappa le Marche, precisamente Trisunga, dove grazie ad Ampana Ascoli Piceno era stata organizzata una distribuzione di cibo e prodotti per animali a chi ne avesse avuto bisogno. Un centinaio di persone hanno così ritirato le cose a seconda delle necessità. Una volta conclusa questa distribuzione, la spedizione si è diretta nel Lazio ad Amatrice per consegnare il cibo rimasto. Proprio ad Amatrice, infatti, si trova una delle più grandi tendopoli ancora aperte. Quella della regione Lazio è proprio qui dove era allestito anche il COC. Il materiale avanzato è stato lasciato alla tenda degli animalisti italiani, unico centro di raccolta e smistamento di cibo e prodotti per animali della zona. Felicissimi colleghi volontari di Animalisti italiani che hanno ringraziato pubblicamente Ampana per questo importante aiuto. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la pagina sportiva.